Fabio Lombardi, buonasera. Buonasera, buonasera. E benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per condividere il suo romanzo intitolato Passo a due, il romanzo intitolato dall'editore fiorentino Vallecchi. Leggo nel risvolto di copertina che Fabio Lombardi, viva a Rimini dove svolge la professione di avvocato penalista insieme con la moglie titolare di una galleria d'arte, dice, primo piano, ha pubblicato racconti su Urania, che bello sentire Urania, perché Urania è veramente la storia del racconto giallo in Italia, vero Fabio Lombardi? Ah certo, certo, infatti la narrativa da Edicola Mondadori è la storia di tutti noi, di tutti i lettori che amano le vere storie, sia il giallo Mondadori che Urania, ed è lì che io ho esordito nell'ormai lontanissimo 1987 con un racconto di fantascienza su Urania. Poi ho sempre continuato a scrivere e pubblicare racconti, non ho mai avuto il coraggio fino a qualche anno, fino a poco fa, di affrontare la forma più difficile del romanzo, perché in effetti... Perché è più difficile il romanzo come costruzione narrativa rispetto al racconto per lei? Ecco, questo dipende dal modo in cui io intendo una narrazione, sia lunga che breve, perché quando io scrivo cerco sempre un'idea. Allora, le idee per i racconti sono più facili da trovare, almeno per me, delle idee per i romanzi, nel senso che un'idea per un racconto è un'idea che non è suscettibile di uno sviluppo narrativo, nel senso che l'autore e il lettore la consumano leggendo il racconto e una volta che si capisce di chi si tratta, una volta che si comprende l'idea, il racconto è esaurito. Invece per il romanzo serve un'idea un po' più forti, che riescano a mettere in moto una macchina narrativa che possa prolungarsi per due o trecento pagine. E queste io faccio più fatica a trovarle, o quantomeno mi vengono più raramente. Allora, più di rado, mi sono venute idee per romanzi e questa volta mi è venuta e io ho cercato di svilupparla in una narrazione che potesse vincere il lettore dall'inizio alla fine. Spero di esserci riuscito. Eh sì, tiene avvinto il lettore alla storia questo romanzo di circa trecento pagine. Fabio Lombardi, come ho letto, svolge la professione di avvocato penalista ed è una domanda banale, lo so, ma mi serve sapere quanto del suo lavoro da avvocato penalista entra in questa storia. Oppure, oppure per contro, come ci ha detto l'autore, collega suo, nel senso che anche avvocato, diceva no, per togliermi tutto lo stress del lavoro io mi butto nella narrazione. Quale delle due posizioni sceglie? No, in realtà sono due strade parallele, nel senso che a me piace fare l'avvocato penalista, però mi è sempre piaciuto moltissimo anche scrivere. Però ho sempre seguito le due strade contemporaneamente. Il romanzo non è un romanzo di avvocato, non è una storia... No, non è tutta l'altra. Però qualcosa forse si infila, perché il protagonista è un avvocato. Il suo modo di pensare, che poi emerge negli snodi chiave del romanzo, è un modo di pensare d'avvocato e quindi qualche cosa si insinua sempre. Però quando io ho cominciato a scriverlo non intendevo sicuramente fare nessun richiamo alla professione. D'altra parte ciò che uno è in qualche modo si infila in ciò che scrive. E' inutile, questo sa va a san dire, perché che lo voglio o meno lo scrittore, questo succede, questo succede. Lei, oltre a sua moglie, è innamorato dell'arte contemporanea, in particolare di che cosa? Dunque, l'arte contemporanea è un grande quiz. Noi lo racconteremo proprio in questi giorni, sta per cominciare, artissima Torino, questa importante fiera d'arte contemporanea. Quindi ci viene normale fare questa domanda, Fabio Lombardi, prego. Ecco, sì. Poi, in effetti, buona parte del romanzo si svolge su temi che riguardano l'arte contemporanea. E quindi, in effetti, è un argomento che il romanzo affronta. Però lo affronta in un modo, diciamo, un po' tangenziale, perché lo affronta con gli occhi di un profano, qual è il protagonista del romanzo, che cerca di capire che cosa sia, alla fine, l'arte contemporanea. E arriva ad una conclusione che potrà sembrare irritante a molti e che, in effetti, ha irritato molti dei miei amici. Perché... Però è una conclusione vera, reale, no? È inutile star lì a girarci intorno, ovviamente, senza rivelarle. Però di che cosa apprezza lei dell'arte contemporanea? Il suo elemento di gioco. Perché è tutto un gioco. Un gioco che, purtroppo, non tutti sono in grado di... È un gioco come Daerodoto a Tolkien? Eh, alla fine sì. Più o meno. È una conduttura. Però è tutto un gioco di rimandi, per cui il profano fa fatica, oppure la persona colta, ma non avvezza alle teorie di estetica contemporanea, non riesce molto spesso a decifrare questi esempi di arte contemporanea, che sono un gioco per iniziati. E questo è il limite, secondo me, dell'arte contemporanea, perché certe opere potrebbero colpire tutti. Ad esempio, penso a certi pezzi di Andy Warhol che sono potenti di per sé, come ad esempio, non so, mi ricordo, le sedie elettriche, l'elettrice, oppure la serie degli incidenti stradali. Quelli sono esempi di arte che fanno colpo su tutti. Invece ci sono altre opere di arte contemporanea che proprio non dicono nulla a chi le guardi con occhi ingenui. È lo stesso brillo di Andy Warhol, quel barattolo che lui ha introdotto. È interessante, ma non è che colpisca al cuore chi guarda. Non è l'opera d'arte a cui noi normalmente pensiamo. Noi ci fermiamo all'opera d'arte, noi che non siamo esperti, che ne so, al figurativo, e allora cerchiamo di legarci a quello. Però ci è stato detto, proprio parlando col direttore artistico di Artissima, mi scusi se mi fermo all'arte, che chi sceglie l'arte sa di frequentare un percorso ricco di mistero. Ora, questa frase mi è ritornata oggi pomeriggio quando rivedevo il suo romanzo con le varie sottolineature. Perché qui l'arte è mistero altro che Fabio Lombardi. Vanno a braccetto. Questo sì. Questo mi fa molto piacere sentirlo dire perché era anche delle mie intenzioni. Io volevo che dopo il salto che i due protagonisti fanno rinunciando alla propria identità, il loro mondo diventasse un po' più ambiguo e sfumato. Per cui alla fine l'arte contemporanea era l'elemento in cui non piaceva farli nuotare perché appunto è un elemento indefinito. È una specie di palude in cui non si capisce bene che cosa vi sia sotto e quali siano i contorni. Insomma, è un mistero, come diceva lei. Lei la chiama palude però io invece pensavo all'acquaio dell'anima. Nell'acquaio dove l'acqua è più sporca è più sporca che mai e questi due nostri protagonisti. Rod, che è un penalista ma ahimè la vita per così dire non gli sorride almeno dal punto di vista dei soldi mentre la fotografa Giulia è una street photographer potremmo chiamarla così come usa di adesso. Ebbene, loro devono scendere nella profondità dell'acquaio dell'anima e non solo dell'anima dove l'acqua è veramente sporca per poi trovare forse la forza di risalire. E qui la forza per risalire è quanto mai difficile perché non passa solo il risalire da un'affermazione artistica. Sarebbe troppo comodo. Certo. Passa attraverso la rinuncia ai loro sogni perché è un conto e cullarsi nell'illusione di poter essere qualcun altro finché non è la possibilità di dimostrarlo veramente. Quando poi ti trovi in una situazione in cui devi capire se hai talento o no allora può anche darsi che uno debba rinunciare a quei sogni in cui si è cullato fino a quel momento ed è ciò che succede ai protagonisti. Alla fine devono fare i conti con loro stessi e con ciò che sono. Adesso non vorrei essere troppo pomposo e solenne nel dire cose così drammatiche perché poi non torna le romanzi non torna la commedia. Eh sì lei ci sta raccontando esattamente quello che succede senza troppo rivelare ma possiamo rivelare che c'è una festa e meno male no? E c'è una festa e in questa festa succede qualche cosa. C'è un incontro decisivo tra il protagonista e anche sua moglie più tardi e il rappresentante di una misteriosa società che acquista esistenze e si offre di comprare in blocco la loro esistenza per una somma consistente se loro accetteranno la proposta non avranno più nulla di ciò che gli è appartenuto fino a quel momento ma non solo beni immobili azioni eccetera nulla neanche gli oggetti più minuti neanche i vecchi giornali le matite in un cassetto gli abiti non gli resterà nulla la società rileva in blocco tutto quello che loro possiedono. E questo l'ho considerato Fabio Lombardi sa cosa l'ho considerato? uno straordinario gesto artistico in un certo senso può diventarlo certo certo la rinuncia a tutta la zavorra della vita e la possibilità di ricominciare una vita completamente diversa sarebbe interessante anche dal punto di vista artistico fare qualcosa del genere eh sì però qui devono scorrere devono scorrere fiumi di denaro per cominciare per così dire questa nuova vita che poi nuova non è no? no perché alla fine alla fine si fermi ha ragione non facciamo anticipazioni ecco lei a un certo punto del libro ci pone di fronte parlavamo di gesto artistico ma qui è un romanzo che affronta è un romanzo anche molto fisico affronta la fisicità dei corpi e qui è anche se vogliamo un'espressione artistica per certi aspetti no? e quindi andiamo a toccare il tema dell'eros perché qui in questo romanzo il tema dell'eros è molto presente anche qui attraverso se vogliamo il gesto erotico si cerca una nuova esistenza no? si cerca potremmo dire mi passi il termine come prima lei affermava dicendo che si acquista l'esistenza qui anche attraverso l'eros acquistare o no l'esistenza ma arrivare forse ritornare forse a una nuova virginità che non è solamente quella fisica si si certamente è esattamente così infatti l'eros il sesso era qualcosa che mi serviva per scaraventare questi personaggi nella loro nuova esistenza dandogli qualcosa che li facesse deragliare definitivamente nel senso che loro si ritrovano in una situazione di assoluta libertà e quindi anche le pulsioni prima represse o ignorate riprendono forma e sostanza e quindi li portano in direzioni impreviste poi volevo anche che il sesso fosse uno spunto un po' umoristico volevo trattarlo in un modo un po' leggero e disincantato anziché sempre con quella serietà quella solennità che si legge come abitualmente quando si trattano questi argomenti e poi cerchiamo sempre di mantenere certo e poi soprattutto scoprirsi scoprirsi in una fragilità straordinaria perché poi forse la realtà più vera potremmo dire anche più bella è scoprirsi in due nella fragilità e quindi da lì poter ricominciare però non sappiamo non sappiamo se Rod e Giulia riusciranno in questa loro in questa loro velleità no che abbiamo più o meno accennato passo a due perché questo titolo lo vuole lo vuole rivelare perché è un passo a due che viene ballato fino in fondo da entrambi nel senso che durante la danza i due personaggi si allontanano poi si rivicinano si cercano però il legame fra di loro non si allenta quasi mai a parte verso la fine del romanzo ma poi viene di nuovo riconquistato e quindi a me sembra che sia veramente un passo a due perché è la storia di due personaggi loro due che scoprono sia loro stessi sia quale sia quale possa essere la forza del legame che li unisce insomma è la storia di due persone di una coppia e quindi mi sembrava bello chiamarlo passo a due mi sembrava che ci stesse a proposito a proposito di coppia ci racconta con parole sue come si diceva a scuola l'immagine di copertina allora l'immagine di copertina è una stilizzazione dell'incontro fra Higgins e Rod che c'è nel primo capitolo proprio all'inizio del romanzo ed è quello in cui avviene la svolta decisiva in cui i due personaggi vendono la loro vita le due poltroni sono vuote perché si vuole alludere al fatto che non c'è più nessuno su quelle poltroni sono le vecchie vite i gusci delle vecchie vite e poi ci sono quelle due scarpe posate accanto alla poltrona di destra che richiamano un elemento della scena perché Rod aveva in tasca le scarpe della moglie le ha posate distrettamente accanto alla poltrona e comunque è sia un richiamo a quella scena cruciale del romanzo sia un'allusione al fatto che le due poltrone restano vuote perché i due personaggi le hanno abbandonate per lanciarsi verso altre esistenze e forse riuscire a dire come frase di liberazione ammesso che venga detta ma la lasciamo scoprire i nostri ascoltatori torniamo a casa perché il tornare a casa è un valore importante lei ce l'ha il libro portata di mano si adesso lo prendo quello di una cosa torniamo a casa e allora lo prenda e poi parliamo in chiusura sul tornare a casa come comincia come comincia i nostri ascoltatori sorrideranno ma è molto molto particolare l'incipiente di questo romanzo prego a lei la lettura Fabio Lombardi la leggo io ma certamente ma si provo in piedi su una scaletta di legno Giulia frugava nel vano della dispensa sotto le grembiule era nuda come sempre quando stava in casa la massa ruffata dei capelli biondi le fluttuava sulle spalle come un vestillo di guerra e il dorso era lucido di sudore tarme schifose disse gli insetti annidati tra gli scaffali delle rivande fuggivano via in modo confuso senza un preciso piano di volo mi affacciai alla finestra con i gomiti sul davanzale respirai una boccata di aria rovente osservando i tetti di via Castiglione che ondeggiavano nel riverbero del sole a tramonto era la terza settimana di giugno ma Bologna era già una fornace qualche anno prima quando era impensabile che il flusso di denaro si sarebbe interrotto avremmo fatto le valigie e saremmo partiti per le vacanze adesso io guardavo il tramonto dalla finestra e lei ammazzava le tarme e lei ammazzava le tarme e allora e allora c'è senso a dire torniamo a casa Fabio Lombardi eh torniamo a casa alla fine diciamo che è una conclusione obbligata di fronte al fallimento della loro veleità torniamo a casa poi è questa è una cosa assolutamente inutile però è la frase finale di un altro di un vecchio film che è Gilda con Rita Hayworth e Glenn Ford che finisce con torniamo a casa allora finisce allo stesso modo di quel vecchio film e quando ho cominciato a scrivere il romanzo già sapevo avevo deciso che sarebbe stata la frase finale però bella questa coincidenza filmica e decidere già in anticipo non l'incipit ma l'explicit quindi sicuramente singolare passo a due prego no è così che volevo che finisse adesso è abbastanza significante questo rilievo però avevo pensato di farlo finire in questo modo pubblicato dall'editore Fiorentino Vallecchi il romanzo di Fabio Lombardi passo a due ma prima di salutarci invece qual è il libro che ne fa compagnia in questi giorni? ah i libri ne scelga uno tra i tanti guardi sto leggendo un capolavoro che è Ed il maledice dello scandalo di Mac Reynolds un vecchio urania del 1979 che avevo comprato tanti anni fa senza mai leggerlo e lo sto leggendo in questi giorni per me è bellissimo Mac Reynolds è uno scrittore di impostazione marxista che fa parte di quella sociologia della fantascienza sociologica degli anni 70 e sarebbe veramente una riscoperta se qualcuno avesse voglia di rileggerlo ma che ne rimane di quella fantascienza sociologica di quegli anni oggi Fabio Lombardi avrebbe ancora senso? non lo so perché dopo Neuromante di William Gibson non si può più fare i conti con una realtà che era quella degli anni 50 qualcosa è filtrato secondo me nella nuova fantascienza però le idee di quegli scrittori restano insuperate gli esperimenti sociali che loro proponevano sono fantastici dici che ci sono idee e quindi idee sicuramente anche da un punto di vista sociopolitico che superano lo stesso concetto di fantascienza che si vuole nel terreno solo della finzione è un altro libro invece? dunque aspetti un altro sto leggendo allora vediamo un po' sto leggendo questo Delphi che è Uomo diventa lupo di Robert Eisler un libro veramente eccentrico è una di quelle cose strane che ogni tanto Delphi pubblica ed è un libro che parla di licantropia però dal punto di vista sia antropologico che mitologico molto divertente ma anche molto eccentrico conosco questo romanzo semplicemente per una cosa sola perché me ne avevano parlato per la traduzione di Raul Montanari Uomo diventa lupo Raul Montanari suo collega scrittore e non solo Robert Eisler è per l'appunto l'autore di questo libro pubblicato da Delphi intanto grazie davvero Fabio Lombardi e buona serata grazie a lei grazie a presto arrivederci